Piz, seconda fila, Maccabeus, HBD. Arretrati Gino e Master Supervit. Si ritrae anche Negus B, che poi galoppa. Macchina che va a lanciare i concorrenti dal centro prova l'Ancillotto. Ha avuto problemi anche Master Supervit, che si è ripreso, ma è rimasto in coda. L'Ancillotto sfida su Orazio e Overcraft Gar. L'Ancillotto Zen, leader, 13,7 in lancio per l'allievo di Borrino. L'Ancillotto su Orazio, Overcraft, quarto la corda e ora mai più la Sol. Poi tutto il resto del gruppo in lunga fila indiana, chiusa da Gino e Master Supervit, preceduto anche da Maccabeus. 29,9,400 di L'Ancillotto, che prosegue a ritmo discreto. L'Ancillotto con qualche lunghezza su Orazio. Poi dalla coda un po' di manovre con Master che risale, prova a prendere una scia a National Baltic, l'anticipo su Maccabeus. 44,8, anche ora mai più la Sol, cerca di sortire dalla corda. Ma intanto davanti l'Ancillotto cammina. Orazio a qualche lunghezza, prova a non spendere troppo, così come Overcraft, Master in duro percorso esterno. 1,1, gli 800. L'Ancillotto, Orazio, Master. Ora mai più che fila Master, poi Overcraft sostenuto al passaggio. Metà della retta opposta, l'Ancillotto al chilometro in 16,3, 15,3 la frazione. L'Ancillotto, Orazio, Master. L'Ancillotto che viene un po' in su, Master che lo avvicina. Poi ora mai più, ancora National Baltic. Si va all'attacco della curva finale, l'Ancillotto su National, su Master. 15,1, uno 31,5, tre quarti. Master che sta passando il leggero vantaggio ma si porta dietro, ora mai più la Sol. Orazio d'Italia che sembra carico e ha da correre. La retta d'arrivo che vede Master passare in vantaggio su ora mai più e Orazio d'Italia. Master, Supervit che passa in leggero vantaggio ma viene attaccato a largo da ora mai più la Sol. Di dentro va Orazio, Master su ora mai più che va molto largo. Master, Supervit, il Pigna con la frussa alzata. Poi ora mai più e Orazio d'Italia vicini. 2,2 per chi vince nonostante una breve rottura al via. Fa valere i suoi mezzi, Master, Supervit, 1,16,7 ufficiale, 2,2 e mezzo. Il Varen della famiglia Pastore che viene ad affermarsi bene. Dal secondo ci sarà da vedere tra... Ora mai più la Sol che si è molto allargato negli ultimi metri ma dovrebbe aver conservato la migliore moneta davanti a Orazio d'Italia. 1,2,5 l'arrivo della seconda, Master, Supervit e Massimo Pignatelli il training di Luca Fierro.